Maria Cappellina Revisore Avete mai mangiato un pezzetto di questa? Beh, starete pensando, certo che no, è una bottiglia ed è fatta di vetro. Eppure vi garantisco che nella vostra vita avete mangiato molto più vetro di quello che possiate immaginare. Infatti, in tantissimi dei nostri alimenti ci sono delle sostanze allo stato vetroso. Volete un esempio? Eccolo qua. Queste caramelle sono vetro puro, esattamente come questa bottiglia, solo che cambia la composizione. Infatti, nel caso della bottiglia, ciò che è vetrificato sono delle molecole di silice. Nel caso invece delle caramelle, abbiamo dello zucchero. Vi stupirà sapere che anche il processo produttivo di questi oggetti così diversi è in realtà molto simile. Infatti, in entrambi i casi abbiamo che la silice e lo zucchero vengono portati ad alta temperatura fino a ottenere un magma molto viscoso, che in seguito viene rapidamente raffreddato in modo da ottenere il vetro. Ma le analogie non si fermano qui. Ci sono delle analogie anche in termini di utilizzo. Ma fermi tutti, non fraintendetemi e non provate a mangiare il vetro di cui è fatta questa bottiglia. Insomma, sarebbe spiacevole. Però al contrario sì, è possibile fare delle bottiglie di zucchero. Ed è effettivamente quello che viene fatto sulle scene dei film. Beh, avete presente quando sulla testa del cattivo di turno viene frantumata una bottiglia di vetro? Beh, quel povero ottore non può certo rimanerci secco. Ed è per questo motivo che quelle bottiglie non sono di questo tipo di vetro, ma possono essere di zucchero. Lo zucchero infatti dà un vetro che all'apparenza è molto simile al vetro classico, però è molto meno tagliente, molto più fragile e quindi molto meno pericoloso per il povero attore. Bene, a questo punto pensiamo di avere capito un po' quello che ci mancava da capire o da scoprire sul vetro. Invece andiamo a leggere la definizione e leggiamo che il vetro è un fluido e come tale scorre. Ma come è un fluido? Ma come scorre? Eppure tutti noi siamo convinti che questi oggetti siano solidi e soprattutto quando mai li abbiamo visti scorrere. Eppure la definizione è corretta, solo che noi non abbiamo mai avuto l'occasione di osservare questi oggetti per un tempo sufficientemente lungo. Infatti il vetro non è semplicemente un fluido, ma è un fluido viscoso ed è talmente viscoso che per scorrere ha bisogno di tempo. Ma quanto tempo? Dipende dal tipo di vetro, però possono volerci anche degli anni. E questo effettivamente è stato dimostrato da degli scienziati molto pazienti dell'Università del Queensland, che si sono presi la briga, come sto facendo io, di porre del vetro all'interno di un imbuto. E di fatto hanno atteso, hanno atteso e hanno ancora atteso, probabilmente l'esperimento più noioso di tutta la storia della scienza. Però oggi, a distanza di circa 90 anni da quell'esperimento, ben otto gocce sono fluite da quell'imbuto. Però se ancora non mi credete, io questo imbuto lo lascio qui. E l'appuntamento è nel 2117 per vedere se ho raccontato delle frottole. Grazie. 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 Grazie.